Ciao a tutti ragazzi sono JK Bish e qui come c'è Inferus Ciao a tutti ragazzi Oggi abbiamo fatto questo video per mostrarvi la prigione del Gran Senora Desert Un saluto ai miei youtuber preferiti Il vostro caro Dexter, FaviJ, Ipantellas, iNubChannel, BrazzoCrew e MikeShosh Cominciamo il nostro assalto alla prigione Però come prima cosa ragazzi devo farvi vedere una buggy perché questo elicottero qua eppure non muove le eliche Cioè è strano Ci credo gli hai sparato non vedi che c'è tutto il fumo dietro Io non li ho Comunque è proprio una bella prigione Vai adesso scendiamo Coglione E' inutile che spari perché se lo colpi abbiamo l'invincibilità Magari con una moto si Su alcune cabine c'è scritto il numero di Satana 666 Cabine vabbè non cabine Sui muri di dove ci sono le celle Sarebbe bello se si potesse entrare a vedere come sono proprio le celle dei prigionieri C'è un vicoletto Siamo passati raga E' meglio se passo davanti Bene qua c'è l'uscita Qua si può entrare in tutte le torri Adesso entreremo per visitarmi Che risolviamo tutto il caos Che cazzo dici No non dimmi che mi ha buccato la ruota della moto Tanto adesso andiamo sopra la torre Facciamo diminuisce il livello di sospetto Comunque questa torre fa veramente cagare Adesso dobbiamo uccidere Non uccide Uccidi la pugna quello di sopra Non c'è L'ho già ucciso io prima Ecco ragazzi non siamo più ricercati Guardate sulla mappa Possiamo guardare tutta la prigione dall'alto Il problema è che ci continuano a sparare No non ci vedono più Ma perché sono stupidi? Ehm No non abbiamo i colpi Vabbè Vabbè Dicci Prova a sparare col fucile d'assalto Al vetro della torre Fucile d'assalto Da dentro va? Mi sa che non si rompe Oh si Con Qua non c'era Proviamo ad ammazzare col fucile a cecchino Quelli delle altre torri Va bene Però il problema è che se ci vedono col cecchino Non è un problema La donna Sì però se non spari Un ammazzato Andiamo all'altra torre Anche l'altro ammazzato Aspettate un attimo ragazzi che riattivo l'invencibilità Ok Ma che cavolo di bug è? L'avevamo ucciso prima Ma ancora vivo? Pule l'ho ucciso Madonna Non arriva il proiettile Non ci arriva fino là Vabbè passiamo all'altra torre No basta Adesso ci buttiamo giù Proviamo l'auto della pula Slow motion Va bene raga Questo è stato l'assalto alla prigione Spero che il video vi sia piaciuto Lasciate i like Commentate Iscrivetevi al canale Ciao Al prossimo video